Benvenuti in questo mio nuovo video Oggi andremo a vedere alcune cose molto interessanti che riguardano Star Wars Prima di cominciare ti ricordo di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato su Fortnite Lascia un bel mi piace per supportarmi, commenta e condividi Iniziamo subito Iniziamo a parlare di due nuove skin presto in arrivo Infatti sono state trovate due nuove skin presto in arrivo Andiamo a vedere la prima skin eccola qua Mentre questa è la seconda skin Queste sono le due skin che sono state trovate nei file di gioco Quindi ci possiamo aspettare che nei prossimi giorni forse usciranno nello shop queste due nuove skin Comunque andiamo a parlare di un'altra cosa Infatti vi faccio vedere tutte le sfide di Star Wars Queste sono tutte le sfide guardate Adesso andiamo avanti E parliamo di un'altra cosa Infatti sono stati trovati degli obiettivi a tema Star Wars Uno di questi obiettivi è di eliminare un avversario con l'assistenza del team Mentre indossi il costume Kylo Sarebbe questa skin qua Guardate Mentre l'altro obiettivo è di eliminare un avversario con full vita Mentre indossi Zori Questa skin invece è questa qua Per cui un'altra conferma che potrebbero arrivare nello shop Guardate un altro obiettivo Schierare il Millennium Falco E schierare anche Zoris Praticamente quindi ci possiamo aspettare che arriveranno forse nello shop Questi due nuovi deltaplani Millennium Falcon e Zoris Forse arriveranno nello shop Non si sa Potrebbero quindi arrivare forse con queste due nuove skin Comunque vi faccio vedere un'altra cosa Infatti sul canale di Twitter ufficiale di Fortnite è stato postato un video E guardate cosa si è visto Questo video è rallentatore per farvi vedere meglio Guardate Guardate Questa è la skin Kylo Come potete vedere in questo filmato Quindi un'altra conferma che potrebbe arrivare a breve questa nuova skin Comunque questo video è di FishQuast Spero che ti sia piaciuto Mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornati su Fortnite Lascia un bello mi piace per supportarmi Commenti e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi